Un bel sole bacia Arezzo in questo ponte di ogni santi, meta turistica di tante persone, di tanti visitatori come del resto tutte le città d'arte. Toscana Regina d'Italia, scelta in particolare dai turisti stranieri, è quanto emerge dal monitoraggio del Centro Studi Turistici per Confesercenti Toscana sulle principali piattaforme di prenotazione online. I prenotamenti previsti nelle strutture ricettive saranno oltre 480 mila. Una parte consistente dei turisti ha scelto le principali città d'arte della regione. Eravamo incuriositi un po' dalla Toscana, da questi paesi così, perché Arezzo non è una città grande ma comunque è ricca di storia e quindi ci interessava appunto vedere. Da Milano, cosa andate a visitare? La casa del Vasari, penso, sì. La mostra anche quella della Chimera? Probabilmente domani. Piero della Francesca? Abbiamo prenotato, sì sì, San Francesco. Quindi avete già tutto l'itinerario pronto? Beh, più o meno insomma, così. Abbiamo guardato cosa c'è, adesso man mano vediamo, però questi bisognava prenotarli. Rimanete qua per il ponte di ogni santi o girate? Sì sì, solo qua, poi torniamo a casa. Il tasso medio di occupazione per le città d'arte si attesta al 90%, 76% per le località di montagna, 73% per quelle marine, 83% e 82% per le località termali. Siamo italiani e dobbiamo goderci le bellezze italiane. C'è tanto da vedere in Italia. Tanto, tanto, non basta una vita. Avete scelto Arezzo o c'è un motivo particolare? E l'ispirazione. Siamo stati ispirati da non so quale musa. Sapete che c'è anche questa bella mostra su Vasari, la Chimera? Eh, infatti, infatti. Ci fermiamo un giorno in più proprio per goderci Arezzo.